... Anche lei mette in dubbio che la morte del responsabile della comunicazione del Monte dei Paschi di Siena sia stata un suicidio? Come Grillo? Ci sono delle ombre su questa morte, quindi sarebbe, siccome a maggior ragione perché c'è una persona morta, sarebbe importante sapere, dissipare queste ombre e sapere effettivamente quello che è successo. Ma su che cosa basate? I dubbi su cosa sono basati secondo voi? Pare che ci fossero delle lettere che circolavano prima con informazioni di persone che sarebbero state suicidate. Si dice, vorremmo sapere noi la verità, noi cittadini. Ok, non le sembra che sia azzardato da parte di Grillo affermare che ci sono dei dubbi sul fatto che il dottor Rossi si sia suicidato prima magari di avere la certezza che ci siano queste lettere? Fermare un dubbio non è pericoloso, sarebbe stato pericoloso affermare una realtà incontestabile, allora sì, senza prove potrebbe essere pericoso, ma un dubbio è legittimo. Anzi, forse siamo a questo punto in Italia perché nessuno per anni si è mai posto dei dubbi, delle domande, delle critiche al sistema. Un'ultima domanda. Gli otto punti fissati da Bersani quando vi ha chiesto la fiducia al governo, ce n'era qualcuno che vi andava a genio o erano tutti da buttare? Ma sulla carta tante cose sono in comune con il PD, però in vent'anni non le hanno mai fatte. Io sono andata prima di andare all'incontro con Bersani, sono andata a riprendermi i programmi del 2001, del 2006, del 2008. Ho letto delle cose meravigliose, però sono rimaste sempre carta straccia, quindi purtroppo la fiducia uno se la guadagna sul campo con le azioni non è una cambiata in bianco che viene firmata dai cittadini. Mi spiace tra l'altro che qualcuno abbia detto che abbiamo trattato male Bersani. Non è la nostra intenzione dal punto di vista umano assolutamente perché nessuna persona merita di essere trattata male. Dal punto di vista politico però è un giudizio molto severo perché come cittadini, come ho detto, ci sentiamo presi in giro da vent'anni. E perché le sembrava di stare a Ballarò? Perché se andate a rivedere quella parte dell'iniziale dell'incontro, ha iniziato a fare tutta un'enunciazione di punti, programmi eccetera eccetera che io almeno da cittadina sono vent'anni che sento nelle trasmissioni che parlano di politica e quindi ho detto faccio, mi sono un attimo distratta, c'è un set di Ballarò e non me ne ero resa conto. Quindi solo per quello. Un'ultimissima domanda, un'ultimissima domanda. Nel caso in cui non vada in porto l'accordo PD-PDL che si sta paventando in questi giorni, voi continuerete a non dare la fiducia a nessun governo? Nel caso in cui l'accordo PD-PDL per un governo non vada in porto, voi continuerete a non dare la fiducia a nessun governo? Noi continuiamo a chiedere di fare un governo 5 Stelle, sono gli altri che per 20 anni ci hanno preso in giro che si devono prendere la responsabilità di non mandare avanti un governo di cittadini e basta. Grazie, bocca al lupo.